E' bastata una lettera per innescare la polemica tra la maggioranza e l'opposizione di San Nicolarcella. Nei giorni scorsi la consulta dei turisti ha inviato una missiva all'amministrazione guidata da Barbara Mele per proporre una dilazione di pagamento di alcuni tributi e doneri. La lettera era destinata a tutti i consiglieri comunali, compresi quelli di minoranza che però non l'hanno ricevuta. Resto il secondo di ciò, abbiamo fatto le nostre dimostranze nei confronti della maggioranza. Abbiamo chiesto ai responsabili del servizio di verificare se esistono altre missive non inoltrate come questa. Differente la versione del vice sindaco di San Nicolarcella Eugenio Madeo. Una polemica inutile, la missiva era indirizzata a tutti i consiglieri, pertanto abbiamo pensato che la stessa associazione avesse inviato la lettera anche ai componenti dell'opposizione. Se ciò non è avvenuto non è colpa nostra, il comune infatti non è un postino. Inoltre, ha concluso Madeo, la missiva è stata allegata alla documentazione consegnata ai consiglieri di minoranza. Ma Forestieri non è d'accordo. Da parte dell'attuale forza di governo è un comportamento sostanzialmente poco democratico. Io capisco che probabilmente l'attuale forza di governo interpreti la casa comunale come casa propria, per cui è normale che quando arrivi una lettera non pensano di non trarre alle altre forze di opposizione. Ma in democrazia non è così.